Oddio! Oddio no Conti no! No 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 no! Come i piedi! È il tuo momento Conti! Allora, e quindi buona fortuna Conti, da come hai capito oggi doneremo alle signorine su TikTok, nemico subito, prima kill! Io posso dire che, allora, non vedo l'ora di guardare le signorine, perché le signorine su TikTok che giocano a Fortnite sono tutte bellissime, però è che non so se ho tipo i soldi, cioè cosa gli do io no? Non mi interessa perché ho fatto già la prima kill e quindi Conti dovrà andare a donare la prima signorina, subito proprio! Ma se subito io devo donare i soldi, ho capito, vabbè, ma ci proviamo ragazzi, alle brutte la rimorchio, tanto posso fare anche così, no? Cioè ogni dono la rimorchio, va bene lo stesso, no? Il rollo è arrivato il mio turno, purtroppo ho fatto subito una kill e ho già individuato una ragazza! Ok, la vedo? Vediamo un po' come te la capi! Iscrivi innanzitutto, dato che sono un gentleman, un ragazzo come si deve, gli vado a scrivere 6, bellissima! Attenzione Conti rimorchiatore, ma io voglio vedere la prima rosa! E devo adorare una rosellina! Eccolo! L'ho vista, eccola, è comparso qua sotto! Grazie Conti, metti like anche tu, dai! Non va bene solo la rosa, devi pure mettere like, Conti ha detto! Ah, pure! Ho messo like, ho messo like, ho fatto tutto! Ti sta ringraziando fortissimo! Davvero? E l'hai conquistata! È mia! E subito così la prima ragazza l'hai conquistata! Ma senti, ma... Adesso io do la via di casa mia, ho capito! No, Conti! Attenzione, perché mi sparano però, mi devi aiutare! Ah, Lolo, ci sta un cerbiatto dietro di te, l'ho visto! Non c'è un cerbiatto dietro... No, Lolo, c'è un cerbiatto dietro di te, stai molto attento! Ti dico che lo sto andando a pushare! No, non puoi fare la kill prima di me! La devo fare io! Sì, bro! No? Ok? No, la devo fare io! La devo fare io! No, 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 no! A terra, a terra! Che palle devo donare io adesso! Let's go! Devi donare un po' di più questa volta, eh! Ah, vabbè, vado a donare subito, ragazzi, andiamo! Ok, Conti, ho trovato un'altra ragazza che si trova in live in questo momento, però donare a questa la farà sclerare! Cioè, se io dono delle rose, ok? Gli si distrugge quello che sta costruendo, guarda qua! Eh, aspetta, fammi interrogarmi in live! Eh, sick2free! Subito! Subito gli abbiamo fatto esplodere il... Oddio! Gli abbiamo fatto esplodere... Guarda, guarda, gli ne mando tantissime! Non lo voglio! Guarda, gli ho mandato tipo otto rose! Oddio! Guarda, gli faccio esplodere tutto! Guarda, gli faccio esplodere tutto! Sei fantastica, gli scrivo! Guarda, gli faccio esplodere tutti! È bellissimo! Che non si vede tanto, eh! Siete tipo a metà! Cosa? Grazie, Conti! Ma ringraziato! Ah, pure lui! Niente, se non... Conti, ma tu! Io gli sto a distruggere strutture e tu la rimorchi, ma che è sta roba? Eh, è innamorata, è innamorata di me, probabilmente! Comunque, sei il top donator, questa cosa non va bene, voglio essere... Sono il super top donator, quindi dopo, secondo me, questa è mia! Cioè, l'ho rimorchiata subito, capito? Oh, altra gente! Sta qui! No, Conti, basta! Basta, Conti! Ucciso! Con l'ho ucciso! Allora, io ti ricordo che l'obiettivo di questo video... Eh... Lo vuoi dire tu? Lo voglio dire io! Eh, rimorchiare una ragazza, ovviamente, portarsela a casa, mi sembra anche ovvio! Eh, più o meno! C'è un piccolo dettaglio che chi sta guardando il video sa e conosce perché ha letto il titolo! Tu ancora non lo sai! Cosa? Che... No, tu mi hai semplicemente detto che dobbiamo donare qualche roselina agli streamer e basta! Esatto, ma l'obiettivo di questo video è far togliere un vestito ad una ragazza! Lo so, Conti! Lollo, sei un porco! Allora, va bene anche un calzino, ok? Non ci interessa quale vestito è... Cioè, tu paghi le ragazze e le fai spogliare, Lollo, sei un porco, veramente! Eh, oh, eh, senti, l'obiettivo di questo video è far spogliare una ragazza! Se ci riusciamo, vinci... Ti do mille euro direttamente! Anche perché se venite in live da me mi hai donato anche due euro e un cazzino me lo tolgo! E lo dico, avverso, insomma, io e Lollo siamo disponibili! Cioè, capito, perché non dovremmo trovare qualcuno che per delle rose si toglie i vestiti? Ma è impossibile, certo che si trova! Ma pensa se tipo troviamo un maschio che lo farebbe! Allora, devi stare... No, 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 non devi sparare, non devi sparare, lo devo fare... Mannaggia, Lollo, 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 tranquillo, Lollo, tranquillo! Non voglio spendere altri soldi, basta donare a queste ragazze che poi quelle vogliono ancora più soldi e poi va a finire male! No, tu devi capire che le ragazze in questo momento vogliono solo me! Ok, intanto io una chile l'ho fatta! Ok, ho ucciso uno! Perfetto, uno a uno! Uno a uno, quindi che si fa? Chi paga? Mi dai... Vado a comprare le mozzarellone! No, 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 come le mozzarellone! Anzi, a proposito, dobbiamo cercare una mozzare... Eh? No, dobbiamo cercare una ragazza, non una mozzarella! Eh, ma che c'entra la ragazza con la mozzarella, non ho capito! Poi te lo spiego quando più tardi, quando vediamo il video! Quando divento più grande! Conti, questa volta l'obiettivo dei calzini, dei piedi, passa in secondo piano perché ho trovato questa ragazza che sta in live e ha un jumpscare, ok? Quindi se noi doniamo una ciambella, gli prendono un colpo! Si caga addosso! Ok, ti prego, fallo subito! Ragazzi, mentre beve, vai, non mi interessa! Conti, vado! Invia! Ciambella! Ti prego, jumpscare! Ciambella, jumpscare! Jumpscare! Ma non... Ciao, Cuglielmo! Ma non fa nulla! Ciao, Leo! Ma non fa... T'ha scammato! No! Non c'è sentito! Non ci credo! Ma ha scammato 30 monete! Aveva gli alert bassi! Volevo... No! No! No, ma non ci credo! Scrivi adesso che per presenza si deve spoglianuta! No, no, cioè, ragazzo, Conti, sei un porco! Non... No, ok, era per chiedere, era per chiedere! Signor Conti, dobbiamo andare alla ricerca di altri nemici perché qua è arrivato il momento di fare sul serio, è il momento di far togliere quei vestiti! Oh, ma ci sta sparando! Ma che c... Fermo! Togliti! È mezzo morto, però mi ha distrutto fortino! Ma non è fortissimo, te lo assicuro! Ucciso! Le sgoschi! Ho capito! Ho capito! Questo sai che vuol dire, Conti, che dobbiamo andare a fare la missione adesso! È arrivato quel momento, è arrivato il momento di provare a far togliere un vestito ad una ragazza! Non sarà facile, ve lo ripeto, ma ci proveremo! Qua c'è un'altra gente, trollo! Come altre gente? C'è dietro il camioncino! Palle, ma è pieno! Questi ci vogliono... Orca troia! No, ci vogliono far sprecare tutte le rose, Conti! Eh, c'è un altro tipo qua! Da 1 a 10, quanto sono forti? Eh, 10! Orca troia! Forti! M'hanno mangiato! M'hanno mangiato! Sono morto! No, Conti, allora, mi devi dare una mano, ok? Che siamo emozionati da tutte le ragazze... Ma chiede alla ragazza una mano, no? Oh mio Dio! Super forte! Super forte! Lollo, ti prego! Lollo, ti prego! Mamma mia, Lollo! 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 Mia! Ah! Non lo farei culo! Ah! E questi sono due ragazzi in un colpo, signori! Vabbè, non c'è... Cioè, devi ancora rissarla, ancora! Ok, però, Conti, cioè... Solo se mi resti lo faccio, se non no! Ok, ma ammetti che ho fatto una giocata devastante! Guarda! Sta arrivando un nemico! Zitto, zitto, zitto! Gato, se muore! Allora, se non mi resti non vale, ok? Facciamo questa... No, 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 aspetta, aspetta, aspetta! Vado via! Via, 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 via! Non ho preso la scheda? L'ho presa? Sì, l'hai presa, l'hai presa! Via, via, via! Turbo! 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 Turbo si vola! No, ragazzi, ma che giocata ho fatto lì? Ma io ho fatto un headshot con la D con il clamorosa... L'ho ucciso l'altro in una maniera assurda, questo... Mamma mia, quanti questo vale... Eh, ma tanto sei morto, cioè te lo assicuro! Che dici? Ma dove? Eh, sì! Ma quando mai? Perché hai i fili del carburante... Oh, cambia macchina! Veloce! Bro, era tutto calcolato, non ti preoccupa! Ma mia mamma era calcolata, vai tu! Ragazzi, se volete giocare in questo modo c'è un solo e unico modo per farlo! Oltre a non essere scarsi come me, dovete usare il codice Ciola nello Shop che vi farà allungare anche il pisellino! Fidatevi, funziona! Oddio, con me non ha funzionato, eh! Però, magari a voi funziona! No, raga, mi sparano in continuazione da destra, da sinistra, da dietro e da davanti, ma non è possibile! Ce la puoi fare, ce la puoi fare, Lollo! Scappa! Se mi resti, giuro che stanotte mi trasformi in una ragazza e vengo da te! Oddio, così sculaccio tutto! Che scherzo, scherzo! Prendi la jump! Ok, signori, proviamo a restare il pippone di Conti che purtroppo muore ad ogni sfida! Vediamo se riusciamo! Oh, ma perché pippone? Ma che vuoi da me? Oh, bello! Tanti, quello che sei morto qua fino a prova contro te! Ok, ti ho arrestato, quindi buona fortuna con le prossime ragazze, perché dovrei donare sborsa quei soldini, Conti, che stai pieno su! Non sono pieno, purtroppo, cioè vorrei avere tanti soldi per poter, tipo, donare alle ragazze fanciulle così di forte, ma non vorrei, capito? Non voglio spendere soldi, anche perché ce n'ho pochi, ho 5 euro nel portafoglio! No, stai sottogli i piedi! Oddio! Oddio, no, Conti, no, 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 come i piedi! Ciao, ciao! È il tuo momento, Conti! Allora, allora, Conti, devi donare e chiedere di togliere un vestito solo per te! No, ma chi è questo? C'è le torte calzini, ma che cosa vuoi che sei... Vai, Conti, vai, vai, Conti, crediamo in te! Ti aiuto io, ti supporto io! Niente, vuole rovinarmi, vuole rovinarmi il personaggio! Non è un problema, fidati, dobbiamo far togliere i calzini! Togli anche l'altro, scrivigli! No, togli anche l'altro! Per una rosa, vai! Per una rosa! Risa, no, sbagliato, vabbè! Vai, Conti! Ti prego! Ho dei show only fans questa! Vediamo un po' se togli anche l'altro calzino! Donna, 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 vai! Eccolo là! L'ho fatto! Vai, vai! Togli anche l'altro! Dai, togli anche l'altro, ti prego! Qui è un'altra rosa! Non la togli! No, Conti, stai fallendo, eh! Niente, Conti, hai perso! Ha detto basta con questi piedi! Non gli so abbastate due rose, mi dispiace! Ma voglio il rimborso, basta! Lollo, meno male che ci stanno due banane, così una la mangio! L'altra dove la metti, per curiosità? Nel c***o! Allora, è una situazione complicata questa! Lollo, fermo! Lollo, ti sei drogato! Ti sei drogato! C'hai un occhio chiuso! C'hai un occhio chiuso! No, ce l'ho aperto! No, tranquillo! No, dicevo, perché quando Miri si chiude un occhio, forza puri... Vabbè, vai! Siccome è pieno di gente, ok? Che ci sta sparando e ci sta fidando, noi dobbiamo andare a rimorchiare assolutamente altre ragazze, perché quelle che abbiamo fatto fino adesso non bastano, ok? Non basta donare così poco, dobbiamo donare un pochino di più! Dobbiamo fare altre kill! Per forza! Ok, allora devo fare per forza delle kill, perché se dono di più, probabilmente vado sotto a un ponte! Ok, Conti, dobbiamo fare molta attenzione a questi nemici che sembrano non essere scarsi, eh! No, 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 non hai capito! Cioè, mi hanno ucciso! Siamo morti! Come? Siamo morti proprio! No, 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 siamo morti! Io sto sopra! Possibile... 36! Possibile vivere! Mangio la banana, ci provo! Possibile vincere! Conti? Conti! Quasi morto! Ok, questo qui sotto è quasi morto, purtroppo non avevo una mitraglietta, mi hanno distrutto! Eh, bro, mi sa che a me conviene un po' campiare... Cioè, so... Fai come ti senti, fai come ti senti, Conti! Ma tanto mi stanno a spaccare tutti, quindi non muoio, sicuro! Allora, ti giuro, non mi sto a muove! Mi hanno pingato! Eh, merda! Mi hanno pingato, sono dove sto! Merda, vola via! Via! Guarda quella macchina che bella! A sinistra! No, 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 prendo... Prendo qui! Ah, no, qua, ti torno su! Ah, qua, qua, qua! C'è il rift! Piatà! Faccio così! E faccio così! E faccio così! Perché mi hanno pingato? Come fanno a pingarmi questi? È terrato nel posto! Ho capito! Sono proprio andato dove stavano i nemici! Si è terrato nel posto sbagliato! Va bene, non ci sarà l'ultima, ragazza! Oppure sì, dai, vi lasciamo quella buona! Vi lasciamo la donazione bonus finale! Noi ci vediamo domani! Un salutone a tutti, raga! Spero che il video vi sia piaciuto! Lasciate un like, iscrivetevi al canale! E ciao, ciao! Limp bonus finale, ragazzi! Andiamo a svuotare tutte le nostre monete di TikTok, Conti! Questa, come minimo, mi deve dare l'amicizia su Fortnite! Forza! È il minimo! Ok? Che gli doniamo una roba super potente! Qua, guarda, il controller di gioco dovrebbe essere tipo una delle donazioni più belle! Perché compare tutto a schermo gigante, guarda! Gli doni il controller e poi vediamo, vediamo! Guarda, dovrebbe comparire tutto a schermo gigante, sta roba! Io ho donato 100 monete, oh! Non mi rispondo, non mi... Ma non mi legge nemmeno! Lollo, comunque, la gente di oggi non gliene frega proprio delle donazioni, eh! Ma come vaffanculo? Ma c'è da con me? Che c'ho? Grazie mille! Vabbè, solo l'ho donato tutta me! Lollo, grazie mille, benvenuto, come stai? Mi aspetta un trattamento... Cioè, a me se mi donano una roba di te ne faccio un disastro! Non svuotare più, non svuotare più nulla, lascia così... Dici che queste 50 monete me le tengo? Eh sì! Ma una rosellina così giusto per... Vabbè, e dagli quello che ti pare! Ragazzi, guardate la differenza tra la donazione ad una donna e la donazione a un maschio! Ok, la donna ci ha detto grazie così sporadicamente! Ma si è adesso... Un gg e una rosa quella da dieci! Guarda, gli dono tutto! Gli dono tutto! Perché sta guidando un fottuto camion! Noi prossimi... Guardalo! Guardalo, è tutto casato, sì! Guarda! Sì, mi piaci! È un nome che adoro il suo! Guarda, guarda, guarda come gli spammo le donation! Grazie, signor Lollo! Guarda, ho finito tutto! Guarda la chat! Voglio ringraziarla, le dico anche che il suo nome mi ricorda cose bellissime! Perché su Tarkov il mio profilo si chiamava proprio Lollo Pollo! Ma aveva fatto il nickname! Ho diventato Pollo Arrostu! Ma è molto più simpatico delle ragazze! Io ve l'avevo detto, ragazzi! Se avete aperto questo video per vedere delle ragazze spogliarsi, sappiate che siete dei porci!